l'aria del continente Jumot nel premio della montagna precede l'Ogli e Coppi ma le successive arrampicate vedono in fuga l'atletico Pasotti un ragazzo di quelli che si fanno notare ma il Triestino De Santi allenato sulle groppe carsiche si ritrova tra questo scosceso appennino ha superato Pasotti e a Cosenza arriva con un minuto e mezzo